Essendo un test andremo a farlo prima da un lato e poi dall'altro. Che cosa andremo a valutare? La capacità di un braccio rispetto a quella dell'altro di svolgere un press, ovviamente in bottom up. Quante ripetizioni dovrò fare da un braccio o dall'altro? Dipende. Da che cosa? Dalla nostra capacità. Potete partire, eseguirne quante ne riuscite a fare, prima da una parte e poi dall'altra. L'obiettivo è che con l'allenamento ci sia una diversità tra lato destro e lato sinistro inferiore al 10%. Utilizzate un peso che riuscite a gestire gievolmente. L'esercizio, in questo caso il test, verrà interrotto ogni qualvolta che la kettlebell potrà scendere o a destra o a sinistra o nel caso in cui non riusciate a mantenere il gomito all'altezza della spalla e questo vi permette di scendere col gomito sotto alla spalla o di uscire dall'allenamento ottimale.